Et labora, nessuna elemosina è più preziosa di quella che si fa col frutto del proprio lavoro. Questa frase, che è anche il titolo del nuovo romanzo dell'eclettico avvocato Camuno Pierluigi Milani, non nuovo a tiche letterarie, è al contempo la sintesi. Perché la vicenda che l'autore narra, come dice Claudio Bragaglio nella prefazione, ci cattura in una densa rete di avvenimenti stesa tra Vallecamonica e Brescia agli albori del 1200. Allora, quando nella nostra provincia proliferavano anche comunità di frati umiliati. Una di queste si trovava a Malegno e negli ultimi tre anni Pierluigi Milani ci ha lavorato sopra. Ho scoperto un giacimento storico, culturale enorme. Ecco, il romanzo è ambientato nel territorio della Vallecamonica, del contado bresciano e nella stessa città di Brescia. Agli albori del XIII secolo, in questo territorio, un territorio attraversato da eserciti, parliamo ad esempio del Barbarossa, anche imperversato da alluvioni, terremoti, attraversato anche da aneliti di rinnovamento religioso. Allora la religione era tutto. E in questo territorio, alla fine del 1100, si insediarono questi umiliati frati, ma anche laici, che daranno un impulso straordinario all'industria laniera, applicando soprattutto la seconda parte della regola benedettina dell'ora et labora. E su queste vicende storiche, documentate molto bene dalle accurate note al romanzo, che si inseriscono anche le vicende personali dei protagonisti del romanzo, sostanzialmente due. Un giovane pastore malegnese, che io ho voluto chiamare Giovanni, che è un nome molto comune nei nostri paesi, e Filardo, priore immaginario di questa comunità. Della Domus umiliata di Malegno, stiamo parlando di una Domus che non c'è più ovviamente, ma è rimasta la piefondazione come edificio e come chiesa a fianco, la chiesa di Santa Maria al Ponte. E insieme a loro però ci sono tanti altri personaggi, nobili, religiosi, vicinie, eccetera, eccetera, ma c'è un personaggio collettivo che è al centro di tutto il raccolto, che è l'Ordine degli Umiliati. Proprio a Malegno, nei locali della Pio Fondazione, verrà presentato sabato 25 febbraio alle 16 il romanzo edito dal Circolo Culturale Ghislandi. Qui infatti era la sede della più importante Domus degli Umiliati della Valle Camonica. Saranno presenti, oltre all'autore, Claudio Bragaglio, curatore della prefazione, la presidente del Circolo Ghislandi, Maria Laminini, i sindaci di Malegno e di Cividate, il parroco, il presidente della Pio Fondazione, Andrea Orizio.